Il commercio online si sta divorando quello fisico. Grandi gruppi, Amazon, stavano facendo selezione. Solo i più forti in rete sopravviveranno. Un vero problema sociale. Ma internet è anche democratico e la Camera di Commercio, con i suoi 25.000 iscritti, dal piccolo spaccio di montagna all'azienda metalmeccanica, lo sa. Il consumatore ha cambiato le proprie abitudini. Tutti noi compriamo più da casa, più online, usiamo più la rete e la presenza sulla rete digitale è fondamentale anche per il piccolo commercio e il piccolo artigianato. Ed ecco il commercio rivicinato che ti entra in casa con la rete. Per ora, scrivendo su Google cancelletto digitale sotto casa, vi troverete una sorta di punto venita di oltre 450 esercizi che propongono per lo più qualità piemontese, ma anche prodotti innovativi, tutti però approvati dal lockdown, che tentano la carta del digitale per sopravvivere. Perché altrimenti saremmo morti e stramorti. Diciamo che aderendo a questa iniziativa noi siamo non solo sopravvissuti, ma siamo riusciti anche ad incrementare la nostra popolarità, la conoscenza del nostro marchio. Siamo piccoli, ma cresceremo il motto, fino ad Amazon, fino a tante piattaforme locali. Dal momento in cui si creerà questa comunità digitale con migliaia, centinaia di esercenti, potremo veramente allora presentarci con armi pari, con i grandi gruppi internazionali e siglare anche degli accordi. Il mio sogno sarebbe anche avere delle piattaforme di delivery locali, creati con una rete logistica locale.